Buongiorno dalla redazione del Tg della mobilità, le notizie sul trasporto pubblico in apertura di questa edizione a Casalotti, terminati i lavori in via di Santa Seconda, la strada è stata riaperta al transito e sono stati così ripristinati i percorsi delle linee 028, 905 e 904. Le corse scolastiche della 028 restano però deviate a Selva Nera per una voragine in via Irma Bandiera. Terminati poi i lavori in via di Priscilla, le linee 63, 92 e 310 sono di nuovo regolari. Le altre notizie, Viale Regina Margherita, Corso Vittorio Emanuele e Via Labicana, in queste tre strade da domenica 1 novembre entreranno in funzione le telecamere per il controllo delle corsie preferenziali. Per chi non rispetterà il divieto di transito le multe saranno automatiche, le telecamere a tutela del trasporto pubblico sono già attive su altre 10 preferenziali, l'elenco sul sito romamobilita.it.